e dunque partire da questa prima serie record più che alla portata e ventisei e trentotto dell'edizione 2010 di stefano graf fabio lombini pochi minuti fa per lui la vittoria dei 200 stile libero atleta del de hacker team classe millenovecento e novantotto mezza lunghezza di vantaggio su tutti gli avversari di gara siamo al tocco vediamo il tempo 25 e 56 fabio lombini su marison 26 23 antioglo terzo 26 84 stile libero stile libero